Jacopo Massari MVP in una gara in cui Modena ha giocato alla grande, Massari ha giocato alla grande, sono arrivate tante risposte in un match che non era sicuramente facile perché qui a Sonia in tanti hanno fatto fatica. Era quello che c'eravamo chiesti durante la settimana dopo la partita in Champions e venire qui fa una prestazione subito dall'inizio importante, siamo stati bravi al servizio a spingere e questa c'è stata la possibilità di fare dei prezzi importanti per poi giocare una pallavolo che ci viene bene qui lì su quella prima. Senti una gara che aveva tanti tanti punti interrogativi, Cessora aveva poco da perdere, quando arriva Modena i palazzetti sono sold out, la gente spinge tantissimo, nonostante questo Modena è arrivata e l'ha fatta da padrone. Penso che si sia visto in questo campionato che non ci sono partite facili e spalle facili da padrone, perché tutte le spalle trasferte vanno molto fatica e questo è il livello di tecnico che c'è in questo campionato. Quindi secondo me sono stati molto bravi a vincere in questo modo e un po' che il nostro gioco si vede lì. Quanto mi riguarda, come mi hai chiesto prima, sono molto contento, dopo qualche prestazione magari al massimo è importante farmi trovare. Non c'era modo migliore per rispondere forse a qualche critica anche esagerata che giocare una grandissima gara. Fa parte dello sport quando magari non si riesce a esprimere il proprio valore, però l'importante è sapere quello che si può dimostrare e quello che si sa fare. Poi quando le occasioni arrivano non sempre si riesce a fare bene, ma questo fa parte dello sport, altrimenti giocheremo tutte le partite al 100%.